Comanevo è finita, cara 1 di finale play-off, ha vinto la squadra di casa, Grotta Anzolina 3 a 0, hanno giocato una partita perfetta, in battuta, in attacco, la prima partita della serie è terminata, hai tanto commento su questo match? Prima c'è da dire bravo a loro perché hanno fatto una partita perfetta, adesso c'è la serie ancora lunga e vedremo a casa nostra come è giocato e forse credo che si rigioca domenica 4. Ecco, giovedì gara 2, partita fondamentale per proseguire la serie, per dimostrare ovviamente che non c'è tutta questa distanza per le due squadre, a differenza di quello che si è visto oggi, cosa vuoi dire in vista di gara 2 che Siena giocherà in casa il 25 aprile, ricordiamo, a partire dalle ore 19? A noi di essere pronti per questo tipo di partita che sarà tosta, loro sono una buona squadra, penso che abbiamo le nostre forze per giocare contro loro, adesso giochiamo a casa e dobbiamo sfruttare questo avvantaggio e vediamo, vediamo! Anche perché in regular season qui avevate ottenuto una bellissima vittoria e quindi insomma eravate giocata alla pari della partita in regular season qui a Grottazio Libre? Sì sì, qua abbiamo fatto una bella partita, stasera loro hanno veramente giocato bene e noi forse un po' di presto, non abbiamo giocato liberi, però la strada è ancora lunga e una finale non è facile, quindi se vogliamo veramente vincere questa finale c'è da seguire ancora un po' e andare a cercare la gara 3. Grazie a tutti!